Poteva finire davvero peggio l'incidente avvenuto sulla rampa che porta dalla zona industriale verso Termoli. Una donna di 45 anni alla guida di una Fiat Panda, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato e viscido, avrebbe perso il controllo della sua auto, ribaltandosi in una cunetta lungo la carreggiata. La fortuna ha voluto che proprio in quel punto ci fossero degli alberi che hanno frenato e bloccato l'auto, evitando che potesse scivolare fino in fondo dove c'è un pozzo di cemento. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 della Misericordia, la donna è uscita illessa dall'auto, necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Termoli.